Il prossimo 19 marzo il grande Pino Daniele avrebbe compiuto 67 anni e come ogni anno anche quest'anno Napoli ricorderà il grande artista e la voce della città. Lo farà nel preciso il prossimo 18 marzo al teatro Trianon Viviani e ricorderà il grande Pino Daniele con Pino Daniele Opera ovvero uno spettacolo che vedrà la collaborazione di tanti musicisti ma anche collaboratori storici del Nero a Metà. E oggi lo raccontiamo con i nostri ospiti. Mi piacerebbe avere qui con noi Michele Simonelli che darà voce di interpretazione ad alcune delle più belle canzoni di Pino e con il maestro Paolo Raffone, compositore, direttore nonché storico amico di Pino Daniele e anche arrangiatore di alcuni dei suoi brani. Buongiorno, ben trovato, ben trovati ad entrambi. Un'occasione, una serata magica, il prossimo 18 marzo al teatro Viviani di Napoli, l'occasione è uno show per ricordare il grande artista, ricordarlo attraverso alcuni dei suoi brani con nuovi arrangiamenti, con inediti arrangiamenti per interpretare quel sentimento che Pino è riuscito a regalare a tutti noi non solo qui a Napoli ma nel mondo intero. Sì, diciamo che cantare Pino è sempre una grande emozione. Noi l'abbiamo fatto in una veste diversa perché abbiamo dato il maestro con i suoi arrangiamenti, li abbiamo rivisitati insomma in una chiave diversa, quindi cameristica tecnicamente. Quindi tralasciando anche il suo suono chitarristico se vogliamo, tanto che il maestro ha sostituito la chitarra con un'arpa ad esempio, proprio per non avvicinarci al suono di chitarra che lui ha fatto benissimo. E con la voce in realtà... L'interpretare tra viene fuori l'anima, i sentimenti che Pino ci ha insegnato attraverso l'ascolto dei suoi brani. L'importante è interpretarli non tralasciando ovviamente come dicevi tu l'anima nel brano, però comunque farli a modo proprio, senza scimmiottature. Esatto, esatto. Se no diventa una cover, diventa un po' karaoke la situazione. Non è questo il caso, anzi c'è una scelta tra l'altro mirata anche di un repertorio perché ci sono alcuni dei brani del grande Pino Daniele. Com'è venuta questa scelta così certosina e che cosa avremo modo di poter ascoltare? Beh io chiaramente nell'85 facemmo questa compagine strumentale classica, tra classico e jazz, blues, rock insieme, quindi facendo un'unica soluzione strumentale. E questo chiaramente a Pino piacque moltissimo, per cui lui voleva continuare, anzi voleva fare proprio un disco su queste cose qui. Poi gli eventi si sono diciamo accavallati e quindi diciamo questa cosa è andata un po' nel cassetto. Solo con Michele nel 2014, quando Pino rientrò un'altra volta a Napoli, fece i suoi concerti al Palasport, noi rientriamo e facemmo questa cosa con Michele che a Pino gli ascoltò e gli piacque moltissimo. E quindi noi abbiamo continuato su questa scia, solamente che poi Pino purtroppo è mancato e quindi noi in effetti ci siamo messi a omaggiare proprio ecco perché l'abbiamo chiamata Pino Daniele. Pino Daniele opera perché la sua opera è tratta, quindi gli arrangiamenti, le cose sono tratti, non facciamo chiaramente la cover come tutti quanti più o meno fanno, ma addirittura un vero e proprio omaggio, una vera e propria celebrazione. Sì, però senza diciamo così stravolgere il senso. La fedeltà di quello che è il testo, di quello che è col testo musicale originale. Intanto è con l'interpretazione, non si vuole emulare, non si vuole imitare, non si vuole scimmiottare come dicevi prima, è importante però avere una interpretazione che ricordi quello stato sentimentale cui noi siamo stati sempre abituati ascoltando Pino Daniele, ma quanta responsabilità a questo punto c'è da parte tua nell'interpretare i brani di Pino Daniele? Io sono sicuro solo di una cosa in realtà, del fatto che comunque l'importanza dei brani di Pino è proprio il sentimento, quindi se noi riusciamo a trasmettere questo a prescindere dalla voce di chi canta eccetera, è importante trasmettere questo sentimento. Come ci si approccia appunto, penso che sia un po' ad approcciare ad un testo ma soprattutto ad una voce così particolare, ad un artista così amato, evitando i rischi. Certamente bisogna che tu lo abbia ben assimilato in realtà, io sono cresciuto con le sue canzoni e quindi ho assimilato bene il suo modo di trasmettere le parole, perché alla fine non basta saper cantare, oggi se vogliamo siamo tutti cantanti, eppure molto bravi. Il fatto è proprio la trasmissione delle parole, il trasmettere le parole in un modo giusto, credo. Ed è quello che in realtà è riuscito a fare il grande Pino, ha saputo cantare della nostra Napoli e a fare in modo che Napoli fosse amata in tutto il mondo, diventando un'icona, un'icona internazionale. Lei lo ha conosciuto personalmente? Qual è il ricordo che conserva l'aneddota che possiamo raccontare? Perché anche questo è un modo per ricordare un artista grande qual è stato Pino. Sì, noi ci siamo conosciuti addirittura in una cosa molto strana, perché lui all'inizio, quando non era ancora nessuno, chiaramente voleva fare questo gruppo. Io ero uno studente ancora del conservatorio, all'epoca ci incontrammo in una mattinata di pioggia, perché pioveva, quindi io non sapevo chi era questo Pino Danilo e lui cercava un pianista, un tastierista per fare questo gruppo. Per cui ci vedemmo e ci dammo appuntamento vicino a un negozio di musica. Io non lo conoscevo proprio. Allora io ero vestito, sai come gli studenti, una volta si vestivano con giacca, gravatta, queste cose qua. Quindi aspettai Pino che veniva, lui venne con una 500 accompagnato dal suo amico. E quando uscì dalla macchina, io di questo ragazzone, disse vabbè, con jeans, zoccoli ai piedi, cose eccetera. Io avevo visto tutto così di punto, perché ero da poco uscito dal conservatorio. E quindi ci guardammo, ci sorridemmo e ci facevamo un sacco di risarmi. Vi siete riconosciuti insomma. Questo è un aspetto che ci permette di capire quanto Pino Danilo sia stato amato dal pubblico, un uomo amatissimo, proprio per la personalità che aveva, la generosità, ma amato anche dai colleghi. La bellezza di essere riconosciuti nel mondo attraverso le musiche di Pino Danilo e l'occasione, quella prossima, il 18 marzo, per tramandare appunto musicalmente una generazione, quella di Pino Danilo, che in realtà sarà un evergreen, non finirà mai. L'importante è proprio questo, infatti il nostro obiettivo, oltre ad omaggiare un grande artista, ma l'obiettivo principale è proprio quello di divulgare ai giovanissimi le opere di Pino. Perché di allie rimane per sempre. Rimane per sempre, però bisogna che ci sia qualcuno che li divulgni dal vivo, perché altrimenti i ragazzi non sanno che esiste un lavoro fatto da Pino per tanti anni. Perché magari distratti da una musica un po' più commerciale, rap, trap, magari non la conoscono quella. Quindi l'obiettivo nostro è proprio quello di divulgare le musiche, in modo tale che il giovane vada alla ricerca dei dischi di Pino. La ricerca, perché poi è quella che conta, la ricerca di un artista che ha fatto grande la nostra città musicalmente, ma anche proprio umanamente. Intanto ricordiamo l'appuntamento il prossimo 18 marzo al Teatro Viviani di Napoli, protagonista alla voce del nostro Michele Simonelli, in compagnia del maestro Paolo Raffone, per celebrare, per ricordare il grande Pino Daniele, per uno show titolato per l'appunto Pino Daniele Opera, perché si tratta davvero di una numerosa e di inimitabile opera. Grazie davvero, complimentissimi, piccolo break, restate con Mattina Live. Grazie